Ciao ragazzi e benvenuti al nuovo appuntamento del Magic Deck. Questa settimana vi presenterò un mazzo Pauper e in particolare il Dimir Control. Andiamo a vedere. Oracolo di portale marino 4x Ratti squittenti 4x Archeumante 2x Vagabondo pensoso 3x Rana pescatrice di Gurmag 1x Ponderare 4x Disseppellire 1x Sfigurare 2x Editto diabolico 2x Editto di China 2x Contromagia 4x Lama del fato 3x Decomposizione riecheggiante 2x Alchimia proibita 1x Fremito spettrale 2x Mietere le tombe 1x Cancello della Gilda Dimir 1x Fontana radiosa 2x Fontana radiosa 2x Secca solitaria 1x Acquittrino tetro 4x Acquedotto Dimir 2x Brughiera brulla 1x Isola base 7x Panude terra base 5x Allora iniziamo dal nostro parco creature Abbiamo il 4x di oracolo di portale marino Creatura blu ha costo 2 in colori Uno blu è un 1-3 E quando entra nel campo di battaglia Guardiamo le prime due carte del nostro ghimorio Ne aggiungiamo una alla mano E una andrà in fondo Poi abbiamo 4x a costo 3 Dei ratti squittenti Costo 1 in colore 2 neri E un 2-2 Che quando entra in gioco L'avversario dovrà prendere Una carta dalla sua mano E metterla in cima al grimorio Poi abbiamo Il 2x dell'archeomante A costo 4 2 in colori E 2 blu Un 1-2 Che quando entra in gioco Ci fa riprendere in mano Una carta istantanea O stregoneria Dal nostro cimitero Poi 3x del nostro Muldrieffer A costo 4 in colori E 1 blu E un 2-2 volante Che quando entra in gioco Ci permette di pescare 2 carte Oppure possiamo pagare Il suo costo di evoc 2 in colori E 1 blu Per farlo morire subito dopo Ma farci pescare Sempre 2 carte Poi 1x del Gurmarg angler Il nostro rospone A costo 7 6 in colori E 1 nero Con delve Se vi ricordate L'abilità Vi permette di scontare Di 1 in colore Per ogni carta Che rimuovete dal gioco Nel vostro cimitero Al suo cast Ed è un 5-5 Quindi abbastanza robusta Per il Meta Pauper Poi iniziamo Dalle magie Non creatura Il 4 per di ponderare A costo 1 blu Una stregoneria Che ci fa guardare Le prime 3 carte Del nostro grimorio Possiamo rimetterle In ordine In qualsiasi In modo che vogliamo Oppure Rimescolarlo E pescare una carta Poi 1 per di Disseppellire A costo 1 nero Stregoneria Scegli una creatura A bersaglio Dal nostro cimitero Con costo 3 o meno E la mettiamo Direttamente in gioco E la possiamo ciclare A 2 incolori Molto forte questa carta 2 per di Disfigure A costo 1 nero Instant La creatura Bersaglio Prende 2-2 Fino alla fine del turno Poi 2 per di Editto diabolico Il giocatore Bersaglio Sacrifica una creatura In instant E il 2 per di Editto di Shiner A costo 2 Il giocatore Bersaglio Sacrifica una creatura Però questa volta È stregoneria Però ha un comodissimo Flashback di 7 5 colori E 2 nere Abbiamo poi Il 4 per di Contromagia Famosissima Counterspell Istantaneo A costo 2 Blu Neutralizza una magia Bersaglio Abbiamo poi Il 3 per Della Lama del fato Che è in instant 1 in colore 1 nero Distrugge una creatura Bersaglio Poi 2 per di Decomposizione Riecheggiante 1 in colore 1 nero La creatura Bersaglio E tutte le altre Creature Con lo stesso Nome Prendono Meno 2 Meno 2 Fino alla fine Del turno Per sbarazzarci Degli scomodissimi Token Poi Alchimista Alchimia Scusate Proibita A costo 2 in colore 1 blu Istantaneo Che ci permette Di guardare Le prime 4 carte Del nostro Grimorio Aggiungerne Una Alla nostra Mano E mettere Le restanti Nel nostro Cimitero Con un comodissimo Flashback A costo 6 in colori E 1 nero Poi abbiamo 2 per del nostro Famosissimo Ghostly Flicker A costo 2 in colori E 1 blu Istantaneo Che ci permette Di esiliare 2 Target Artifact Creature And or land Ovvero Artefatti Creature E poi Farle Ricomparire Poi 1 per Di Reaping The grave A costo 2 in colore 1 nero Istantaneo Ci fa Riprendere In mano Quando entra In gioco E in più Ci può dare Se viene Tappata O blu O nero Poi abbiamo 1 per Della Brugheria Brulla Terra che Entra in gioco Tappata Ci da Mana nero Se la Tappiamo Oppure Può essere Ciclata A 1 nero Poi abbiamo Secca Solitaria Entra in gioco Tappata Se la Tappiamo Ci da Mana blu E la Possiamo Ciclare A 1 Blu 2 per Delle Nostre Comode Bounce Land Quindi Acquedotto Dimir Entra in gioco Tappato Quando entra In gioco Ci dobbiamo Riprendere In mano Una Terra Possiamo Riprenderci Anche La Radiant Guarda Un po' Per guadagnare Un po' Di Punti Vita Se la Tappiamo Ci darà Sia Blu Che nero Poi Terra Base Abbiamo 2 4 6 Isole E 5 Paludi Allora Vediamo Qualche Utile Consiglio Per giocare Questo Mazzo Allora Naturalmente È un Mazzo Controllo Ed è Molto Strano Vederlo In Pauper Anche Perché È Fondamentalmente Composto Da Tantissimi Mazzi Agro Difficile Quindi Da giocare Perché In presenza Di tanti Mazzi Che Mettono Minacce Sin dal Primo Momento Bisogna Stare Molto Attenti E Gestire Bene I Counter E Le Rimozioni Un Mazzo Che Presenta Tantissime Rimozioni Tantissime Magie E Poche Creature Creature Che Però Naturalmente Quando Entrano Il Campo Di Gioco Fanno Qualcosa Quindi Abbiamo Rattis Quintenti Che Ci Permettono Di Far Saltare La Pescata L'avversario Abbiamo L'oracolo Di Portale Marino Che Ci Permette Di Cercare La Soluzione E Allo Stesso Tempo Bloccare Le Race Comunque Un Solido 1-3 Poi Abbiamo Il Mull Drifter Che Tra Le Altre Cose Può Essere Giocato In Risposta Di Evoke Quindi Lo Potete Giocare A 3 Con Evoke Mandare In Pila L'effetto Di Doverlo Sacrificare E Poi Farlo Sparire Col 6 Pescando 2 E Magari Accompagnato Con Un Ratti Squitenti Che Gli Fanno Rimettere In Cima Al Mazzo Una Carta Dalla Mano All' Avversario Oppure All'Arche Omante Che Ci Permette Di Riprendere Anche Qui Ghost Re Freaker Dal Cimitero Per Poter Fare Un Continuo Ghost Re Freaker E Bloccare Il Nostro Avversario Oppure Con Oracolo Di Portale Marino Andare A Rimettere I Ratti Squitenti Gioco Oppure L'Oracolo Ricordatevi Che Abbiamo Anche Un' Alchimia Proibita Che Ci Permette Di Andare A Cercare Più Velocemente Queste Carte Se C'è Una Counter War O Comunque Tantissime Rimezioni Che Fate Durante Il Turno Del Avversario Ricordatevi Che Potete Fare Anche Un Reaping De Grave Una Volta Che Sono Tutte Le Magie Che Sono State Giocate Durante Quel Turno E Non È Male Perché A Partita Inoltrata Naturalmente Vi Permette Di Ripartire Con Le Maniera Che I Primi Tanni Che Vi Fanno Burn Stompi O Culldota Vi Permettano Di Recuperare E Quindi Andare Nella Partita Avanzata E Quindi Portare A Casa La Partita Bene Per Questo Appuntamento È Tutto Ci Vediamo Alla Prossima Se Avete Dei Commenti Volete Modificare Qualche Cosa Nella Lista O Avete Dele Richieste Di Mazzi Particolari Scrivete Nei Commenti Vi Rispondiamo Il Prima Possibile Ciao Ragazzi Good Boy